La mappa Evil Christmas, presa ispirazione da Mr. Dalek, perché vi ricordo che gli artisti prendono ispirazione da altri artisti, con voti massimi su Steam. Quindi dovrebbe essere tanto di cappello. Vedremo, vedremo. Però volevo chiederti, ti sei visto il nuovo Spider-Man? L'ho visto ieri, ma non vorrei fare spoiler per magari gente che... No, no, niente spoiler. Ti è piaciuto? A me sì, cioè lo metto proprio al secondo posto della mia top dei Spider-Man. Il primo rimane ovviamente Spider-Man 2. Qua c'è un'accetta. Ah sì, prendiamo l'accetta perché dovrebbe essere da aiuto dopo comunque. E ci sono varie influenze di vari code, come per esempio Infinity Warfare, dovrebbe esserci... Vabbè, ovviamente Black Ops. Non ci sarà Vanguard, signori, anzi quasi grazie a Dio. Ma com'è Vanguard? Che non lo sto proprio seguendo. È ormai i code... Allora Shadow, devi capire che io ti ho chiamato semplicemente perché sarò Crepo. Crepo in continuazione. Allora... No, Vanguard è un grande tutorial, è ancora in fase di beta. È perfetto. È tipo un Cold War con solamente il tutorial. Sì, 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 esattamente. Allora, benvenuti nella mappa più natalizia che forse potrete trovare sulla faccia della Terra. La grafica mi sembrava abbastanza interessante. E cos'è che ci dice questo cartello? Allora, io sono arrivato tipo fino al primo step ma mi sono voluto fermare. Oh, cazzi iniziale. Attenzione. Oh, cos'è? Oh, Cash. Merry Christmas. Vieni qua. C'è uno scogliattolo che parla. Ciao, scogliattolo. Lui ci dà una mano? Ok. Santa Claus è diventato cattivo e ha bisogno di cure. Ok, possiamo aiutare Santa e il Natale. Chip the Squirrel. È perfetto. Ho raccolto una fatina e è tipo tutto strano. Premi Q per? La mappa. Ah, ma è in tempo reale. Cioè, noi ci dà dove siamo, per esempio? Non lo so, vediamo un attimo. No, io non mi vedo. No, neanche io. Vabbè, però a ricordi logica siamo al primo regalo quello in alto. Allora, lasciarla andrebbe tirata qua, sull'albero, vai. Perché, esatto, da quello che ho provato un attimino a capire, questa cosa è comunque carina, secondo me, crea un po' di interazione. Poi qua abbiamo una fotografica. Questo è Linner. Questo? Questo è Transit. E questo è Transit rivisitato, signori. Oh, un altro regalo. Apri lo tu, apri lo tu quello. Allora, Dancer, ma sbaglio o è una renna FTA di Babbo Natale? Dancer Rudolf, no, Führer non c'era. Ma che mi spesso andiamo? Vabbè, io di tanto ci metto delle poesie dentro. Round, siamo al tre. Carina la cosa che hanno messo, tipo gli stick di zucchero, se così vogliamo chiamarli. Oh, qua c'è un'altra renna. Dasher. Ok. Ah, qua c'è la corrente. Perfetto, quindi corrente attivata. Stermina la fauna locale. Potrebbe essere... Penso sia un sidister che non so cosa ci dà, ho trovato tipo una campanella. Allora, io avrei un piccolo spoilerino. Non so se è corretto, se l'ho già capito. Bisogna dare le anime sostanzialmente a questo cervo bicornuto. Poi c'è un'altra cosa della corrente. Vai, attiva. Io vedo se questo... Ah, c'è il giaglio qua. Ok. Questo zombie è abbastanza rilento. Comunque, mentre stiamo facendo questa deliziesa custom, io davanti tipo alla televisione così per tenermi compagnia perché sono a casa da solo. Ed è incredibile come a Natale, ogni singolo Natale da vent'anni, facciano sempre le stesse cose. Sempre gli stessi film. Sempre. Tipo, adesso c'è stato Baldo, non so, il cane insomma, il cane lupo. Ok, bisogna sfamare qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui. Arrivo. Poi, ho visto che ci sarà una poltrona per due, adesso c'è Willy Wonka, il Grinch ci sarà sicuramente. Sempre i soliti film. Altri film di Natale? Baldo, Baldo, non smalto. Ok. Comunque animazioni fatte bene, eh. Ma poi, di quanto tempo è sta custom? Oh, i folletti ci stanno. Ma fan tantissimo male. Ma questo è tipo... No, no, Shadow, Shadow. Aspettate le Mustang. Oh, merda. Eh, mannaggia. Eh, ma però ci hanno fatto... Ma bisogna aspettare che se lo mangia, un po' come dei Resendrake o... Non lo so, cioè adesso è attivato. Ah, mi sa di sì. Eh, no, è come te. Ti lascio il posticino allora, dai. Beh, sì, anche perché tanto sarà quello che morirà. Oh, c'è il Jug, eh? E il Double Top. Ecco, quindi... Ah, ma qui pattinano! Let's go! In che senso pattinano? È all'interno, tipo, come quando ti servono negli diner americani dove pattinano, effettivamente. Oh, gli hai un doppio punti. Comunque mi ha droppato qualcosa. Un tool, tipo un cacciavite mi ha dato. Con questo cacciavite non so cosa si possa effettivamente fare. E non è che ci sono altre Renne qua in zona? Io ne ho una da me. Allora, io... Ah, hai un'altra Renne. Aspetta, Renne intesa appesa o Renna... Appesa. Appesa, ok. Oh, spammando. Io ho aperto un'altra zona e mi sa, ok, corrente. Ogni perca ha la sua corrente. Ah, vedi, aspetta, bisogna metterle tutte qua le Renne, mi sa. Non è la loro stalla. Rudolf, Pranger, Dancer, Dasher. Sono tutte qui. E non lo so, dagli un tipo uno schiaffetto sul culetto. Aspetta, ne ho una qui. Sta scappando? Non lo so, aspetta che non so dov'è. Ah, eccola qui. Schiaffetto? Non lo so, F? F, C. Aspetta, press F, hold to... Ah, per scortarla. Oh, li lupi, li lupi, li stanno attaccando la Renna. Hatz. No, Shada, devi darmi una mano. Hai un attimo, ho trovato le lilarne. Utile. Che carine però stai lilarne. Aspetta che voglio tentare la fortuna. Aspetta, uh, 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 voglio tentare la fortuna. Vai. Mi ha scammato, mi ha scammato, ragazzi. Ah, no, eh... Aspetta un attimino. Non so, cosa fa quello, ragazzi? Cosa fa? Ha dato un po' di punti, eh, per caso? No, hai mai dato una gamme. Non ho capito cosa fa, però, questa gamme. Ah, bu. Ok. Ok, ragazzi, è andato. Perfetto. Quindi, andiamo prima a sfamare l'altra. Sì, aspetta che... Oh, guarda, uno scogliattolino, uno scogliattolino. Si può ammazzare? Ma io posso sfamare, no. Eh, poverino. Oddio, guarda che carine. Le lilarne. Perché dovrebbe volere i nostri soldi il tizio, scusa? Puoi dargli lì tu che ne hai 3.000? Ti l'ho dati? Dai, mi ha scammato palestamente, eh. Oh, c'è un elfo che si è intaccato. Uh, la Thundergun l'ho trovato. Ma l'ha trovato la Thundergun a mille. No, 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 dai, dai, però, Shadow! Ha finito qua. Ah, ci stavano tipo... Adesso abbiamo cacciavite, Martello. Dai, vabbè. Cagare. Non tengo paladras per descrivere esto. Voi ragazzi, anche in chat, cosa fate? Voi fate tipo il pranzo di Natale o tipo il cenone il 24? Perché ci sono sempre diverse correnti di pensiero. Per esempio che fai? Un pranzo di Natale. Io al contrario. Io ho sempre fatto... No, ma c'è morta! Eh, vabbè, vedi, a parlare di cenoni e pranzi. Si è sentita male. Vai. Comunque io ho sempre fatto il cenone. Ah, ok. Ho fatto anche il pranzo, però ho più importanza al cenone. Comunque in alto a destra c'era scritto di ripulire la zona, quindi dobbiamo ammazzare i dieci zombie. E quindi tu il Natale comunque lo passi in famiglia o... Con gli amici, ok, perché anche qui. Oh, eccolo, 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 aspetta, aspetta! Che sto seguendo il... Boh, lo scogliattolo con le corne e col naso rosso. Ah, questa volta sei mio. Ah, questa volta sei mio. Oh, mi sta... Ah, mi scava qualcosa? Cosa? Oh, la renna si è mossa, eh? Mi ha dato un'arma che ho già. Ma mi ha dato un'arma che ho già. Ok, la renna si è mossa vuol dire che stanno arrivando i cani. Attenzione che... Mi è rimasta solamente la Thunder, quindi... No, eh, la... Girati, 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 girati! Eh, aspetta, sto caricando. Eh, qua è un po' lentino a sparare. Ma... Arrivano solo da dietro, mi sa. Ok, se gli spariamo non... Non li farà da... No, no, non penso. Ok, ma non arrivano solo da dietro, arrivano anche dal vicoletto. L'importante è che da davanti non arrivino. Oh, no, 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 adesso... Ok, allora, anche Dunsher fatto. Invece, zitti subisci nessuno dei due. Vabbè, cioè, neanche io... A me il Natale non piace, mai festeggiato, però... Adesso che vivo da solo, diciamo, è un pretesto per tornare alla fine. Annaggia, la pausa su Black Ops 3 non c'è, vero? Nope. Porca bugazza. Hai urgenza grave? Sì, un attimo. Ti metto cinque minuti. Vedo se riesco a proteggerti, dai. Sì, sì, metto un attimo qua. Non ce la faremo a proteggerlo. Come... come se attivavano... Come se attivavano, ragazzi, le gamme? Vabbè, vabbè, vabbè. Ogni tanto potrebbe spammarlo, eh. Oh, buono, buono come il pane. No, 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 e chi lo difende? Shadow! 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 No, no. Shadow, ci sono gli elfi! No! Shadow, non ti posso difendere! No! No, no, no! Shadow, Shadow, Shadow! Ti prego, torna! Sopravvissuto e la sfida finale si può considerare conclusa. Shadow, ti prego, torna! Shadow, 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 ti prego, Shadow! Io grido perché magari mi sente dalle cuffie. Shadow, ti prego, Shadow! Shadow, no, 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 Shadow, Shadow! Guarda lo zoppo, guarda lo zoppo, blocchiamolo, blocchiamolo. Shadow, ti prego, torna! Shadow? Facciamo passare round, non può morire. Shadow? Se Bambu Natale esiste lo farà tornare prima dell'inizio del... Poggers! Poggers! Ci sarebbe un'arma. Dove la troviamo un'arma? Bambu Natale ovviamente esiste. Ragazzi. Scusa. Come si esce da questa situazione? Ragazzi, e mo' chi glielo dice a Shadow? Ma poi erano cinque minuti, perché è rimasto così tanto via? Allora, facciamo così, noi iniziamo comunque la partita. Shadow continuerà a morire e prima o poi tornerà. È per non lasciarvi così senza niente. Ci state? Quindi siamo io e Recocomero. Recocomero, il problema è che adesso non c'è, perché si è assentato da un botto di minuti. Detto che tornava in cinque. Falso. E quindi siamo qui. Noi, andiamo avanti. Magari io finiamo l'easter egg con una persona in meno. Potrebbe essere. Il problema è che lo sapete che io vado a terra molto spesso. Basta non andare a terra. Ragazzi, voi non avete capito che io non sono... Io gioco per passione. Io gioco per spiegare. Io gioco per scoprire e completare gli easter egg. Ma rimanere a terra, quella è tutt'altra cosa. Non c'entra con me. Folletto? Folletto! Folletto! Shadow! Dio. Eh, ci ho messo un attimo che era una cosa importante. Ok, fatto, dai, fatto. Via. Vediamo tutti gli attrezzi. Vado subito a riparare la... Cosa faccio? Intanto ti... Prova, prova, prova. Proviamoci. È la mia attenzione. Sono due, tanto. Dai, dai. Ma dimmi che è l'ultima. È l'ultima, è l'ultima. Oh, yes, sir! No, 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 no. Va che se muore così, ragazzi, cioè, davvero, non so più cosa dire. Allora, aspetta, adesso abbiamo tutte le renne, ok, abbiamo tutte le renne per far volare sta fottuta slitta. Ora andiamo a riparare anche la slitta e dovremmo esserci. Vai, vai. Paga. Aspetta. Qua, qua, qua. Si ripara la slitta qua nel garage. Ok, slitta riparata. Ora se ne va. Intanto mi prendo un jugger, ok? Eh, adesso incominciamo un po' a fare sul serio. 250. 1200. Mo' mi riloggio l'arbro. Ah, vabbè. Non ti vuoi prendere tipo un'arma? No. Vado con l'ascia. Va bene, Babbo Natale con l'ascia praticamente uguale a non superarlo. Ok. E ora? Eh, forse bisogna portare le renne o fare qualcosa. Ah, ecco, qua è aperto. Sentì la canzone. Zombie, zombie, zombie. Oh, oh. Ma dove sei? Ho stato una slitta, ho stato una slitta. No, Shadow, mi hai abbandonato da solo con gli elfi. Eh, vieni qua nel porto, veloce, corri. Mi sa che vuol dire che siamo un boss fight. Cioè, è un'arena questa. Vabbè, vieni a provarla, su. Più che altro che io non ho molto tempo. Eh, carino, ok. Come si riesce da qui. Ah, ciao. Ehm, eccolo là, Babbo Natale, guardalo. Dov'è? Sopra. Ma sta dicendo qualcosa? No, è che ci guarda. Shadow, siamo in boss fight, non abbiamo nessun'arma. Tu hai l'ascia. E senti la canzone. Schiva le bombe, schiva queste bombe. Mi sto schivando. Ce l'hai almeno il Jug, eh? No. Aspetta, te le rompo le bombe. Se le spari le rompi. Te le rompo. Ok, ho finito le munizioni. No, non rischiare, non rischiare. Hai il Jug? Guarda 10. Che pazzo. Ragazzi! Allora, Shadow, tu adesso mi spieghi perché sei andato in boss fight, così. Amico, è che adesso mi spieghi perché sei andato in boss fight, così mi spieghi perché sei andato in boss fight, così.